in bocca al lupo anche a voi e complimenti per l'ottimo duetto che fate con la dottoressa su tutte le partite ci divertiamo tantissimo, grazie tante, ciao Carlo piacere ed ora finalmente il momento così atteso della partita che è quello che la dottoressa proclamerà l'uomo partita e l'uomo in guardabilità prego dottoressa allora, l'uomo partita subisco un fascino abbastanza prevedibile che è quello del set degli avversari Codino, Barba, oramai avrete capito i miei gusti e invece tenuta imbarazzante il nostro Barbisan perché ha le scarpe che vanno bene con la tenuta, con la divisa degli altri degli avversari, infatti, glielo diremo, glielo diremo quindi vince Barbisan l'inguardabilità e adesso glielo diremo quando lo intervisteremo la prossima volta anche se c'è una piccola postilla sulle calze di Castelli le calze di Castelli sono tantissima roba ma le calze di Castelli sono una scelta di vita secondo me no, ma poi se sono per caso delle calze portafortuna noi le ci rendiamo sopra ma avanti così vanno bene anche quelle, certo, assolutamente bene, si riprende allora si riprende sul 54 a 35 grazie a tutti grazie a tutti